Ciao amiche di filo, oggi vi propongo come progetto uno scaldacollo. È un progetto estremamente facile da fare, si fa con un piccolo pezzo di tessuto, nel mio caso sto utilizzando un pile, un pile di qualità perché è un pile di cotone, ma potete utilizzare qualsiasi tipo di tessuto invernale. La quantità che utilizzerò io è di 68 cm di lunghezza e 40 di larghezza. Questa misura però la potete aumentare sensibilmente o la potete ridurre se la volete un pochino più comodo o un pochino più aderente. E poi vi dirò le misure eventualmente per farlo anche per le bambine. Ma vediamo passo passo come si fa. Quindi questa è di 40 cm per 68. Vado a ripiegare dritto su dritto, anche se questo tessuto non è facile riconoscere dritto, sistemo così tutto questo lato e lo fisso con gli spilli. Ecco potete utilizzare tranquillamente un ritaglio di stoffa, come vi ripeto qualsiasi tessuto invernale. Adesso faccio una cucitura su tutta questa lunghezza, blocco il punto all'inizio ed alla fine. Alla macchina da cucire ho impostato un punto dritto della lunghezza di 3,5 cm e mi muovo a bordo piedino. Blocco il punto e poi procedo. L'ago potete utilizzare un ago universale senza problemi. Il pedino, quello normale. Qui c'è un piccolo aggiustamento da fare, veramente minimo, quindi lo faccio subito. Questa è la cucitura, come vedete bloccata all'inizio e alla fine. Ed eccola qua. Ora metto la mano all'interno, prendo questa parte qui con la cucitura e la porto proprio in questo modo, così. Adesso per renderlo particolare faccio una rotazione di questo, così, fino a tornare nella posizione iniziale. Ecco qui. Quindi avete visto, ho inserito ed ho ruotato. Semplicissimo. E quindi blocco in questa posizione. Adesso sistemo tutto il tessuto, così, e sistemo tutto il bordo. Quindi faccio combaciare e blocco. Faccio combaciare e blocco. Faccio questo su tutta la circonferenza. Per tutto, adesso farò la cucitura con il punto dritto, come questa che ho fatto, solo la farò su questa circonferenza. E lascerò un'apertura di circa 8-10 cm. Cioè questa apertura qua. Bloccando il punto e faccio tutta la cucitura. Con la macchina sistemo il braccio libero, così sono più comoda. Inserisco questo all'interno e parto qui da dove c'è la marca. Quindi sistemo e inizio la cucitura con quella che abbiamo fatto prima. quindi a bordo piedino con tutte le stesse modalità. Ecco, sistemate per bene i tessuti durante la cucitura in modo da farli combaciare perfettamente ed avere un bel lavoro. Ecco qui la cucitura dall'inizio, su tutto il contorno fino all'altra marca che avevo fatto. Ovviamente ho bloccato il punto. Ora da questo punto risvolto sul dritto. Porto tutto quanto così sul dritto. Ed ecco qua. Allora, come vedete qui rimane l'apertura, la devo sistemare. Io consiglio di sistemarla a mano con un filo in tinta. Per vedere l'apertura sistemo prima così il bordo. Metto uno spillo giusto per tenere fermo il tessuto e poi con ago e filo in tinta entro qui dall'interno. Blocco. Blocco. Quindi blocco qui dentro. In modo da non vedere il filo poi fuori. E poi inizio la cucitura. La cucitura si fa su questo lato per qualche millimetro. Si va sul lato opposto e si entra e si esce così. E poi si va subito direttamente sull'altro lato per pochi millimetri e sul lato opposto. Si fa in questo modo fino alla fine di tutta questa apertura. Ho fatto tutta questa cucitura. Arrivata alla fine, prima di bloccare il punto, tiro, tiro il filo. Ok? E quindi si chiuderà così. Sistemo per bene, quindi tiro il filo e poi sistemo e quindi blocco il punto. E poi passo attraverso quest'anellino. Fatto. Adesso si può anche stirare per bene. Comunque ho chiuso. È il caso di sistemare stirando per bene. Il mio scaldacollo è pronto. Guardate che bello questo effetto così arrotolato. Lasciamo possibilmente questo. E sul davanti resterà così. Quindi una sorta di... come se fosse praticamente arrotolato. Questo effetto è molto molto bello. Qui come si presenta indossato. Quindi se vi piace questa misura così va benissimo. Fatelo delle misure che vi ho dato io all'inizio del video. Se la volete fare un pochino più ampio lo potete ovviamente allargare senza problemi. Io penso non più di 5 cm altrimenti rimane troppo ampio. Comunque c'è l'agio per poterlo sistemare per bene. Insomma per poterlo utilizzare al meglio. Se volete realizzarlo per i bambini basta cambiare e modificare un pochino le misure. Soprattutto per la lunghezza. Ma vi lascio tutte le indicazioni qui nella casella delle informazioni. Quindi vi lascio almeno tre misure in base all'età dei bambini. E sempre io vi ringrazio per aver guardato questo video. Se vi è piaciuto lasciatemi un bel like. Condividete e iscrivetevi al canale. Ciao a presto. Al prossimo tutorial. Ciao a presto.